Una gita in barca a Remi, un'occasione per scoprire le bellezze e la storia del fiume cittadino. Lucia Cappelletti. Un 25 aprile all'insegna della lentezza in barca a Remi lungo il Marzenegos e Lino per scoprire il fiume di Mestre osservandolo da un punto di vista insolito, a pelo d'acqua. Un percorso attraverso il centro della città che fa parte di una lunga serie di iniziative organizzate lungo il corso del Marzenegos, a Resana, Salzano e Campalto. Un'occasione per discutere non solo di biodiversità ma anche di percorribilità degli argini e sicurezza idraulica. Il fiume non viene vissuto, è un elemento marginale e quindi con questa manifestazione cerchiamo un po' di riappropriarci di questo spazio di tutti. Una festa organizzata dalle oltre 50 tra associazioni e comitati che fanno parte del contratto di fiume Marzenegos e Lino insieme al Consorzio di Bonifica, Acque Risorgide e agli enti locali. Scopo di questo processo partecipativo spontaneo è quello di trovare e sottoscrivere regole condivise sulla gestione del corso d'acqua. Frenare la cementificazione del territorio, fare in modo che non costituisca un pericolo con una manutenzione, con una cura, con un'attenzione verso la presenza del fiume e nel tempo naturalmente che non è una cosa di una settimana tentare di arrivare a questo accordo di tutti coloro che hanno interesse e si tramuta poi un miglioramento della qualità della vita della città.